Ciao Plati, come stai? Allora, ho visto che in pratica stai ancora dimagrendo di più. Complimenti, ricordi che noi abbiamo un parto. Non togliere quel parto, perché sennò andiamo male. Allora, Platinetta che arriva da Parma, nato 4 novembre 55, scorpione, scorpione, 60 anni. È un giornalista, cantante, DJ radio, entertainer, subrette e debutante ballerina. Mi raccomando, fai tutto quello che è necessario a fare il tuo modo di ballare, tua esuberanza. Io voglio vedere veramente i subretti che non ci sono più in televisione e poi stai ballando con Raimondo. Questo è sicuramente una combinazione fantastico. Ascoltarlo, però principalmente ascolta il tuo cuore, perché tu hai sempre lavorato con la musica, lo conosci meglio di qualsiasi altra persona e interpretarlo in modo tuo, perché tu sei unico. Mi raccomando, eh? Ciao!